oh mio dio guarda che pasticcio alzatevi entrambe come vuoi mamma sì mamma cos'è successo alla vostra stanza sembra che ci vivano delle scimmie qui riordinate subito sì certo va bene la mamma ha ragione odio pulire ho cose migliori da fare la sorella minore di ellen stefani è abituata a fare sempre solo ciò che vuole e gli ordini della madre non sono in quella lista quindi mentre ellen pulisce diligentemente la sua metà di camera da letto stefani continua a divertirsi la vita è bella le pulizie sono finite e la mia sorellina addirittura ha peggiorato il casino finalmente ellen se n'è andata l'operazione nome in codice freghiamo la sorella è iniziata getterò tutto nella sua metà c'è tanto posto libero lì perfetto il tocco finale mamma arrivo mia cara o la mia brava figlia è ben pulito ora cos'è quello ellen cos'è questo ho sistemato lo giuro due giorni senza smartphone ma davvero ho fatto tutto segui l'esempio di stefani non è giusto te ne pentirai amaramente ragazzina e cosa puoi farmi dicono che sia bello avere una sorella tuttavia potrebbe non essere tutto meraviglioso come vorresti mamma esco aspetta figlia cosa c'è che non va porta stefani con te ha bisogno anche lei di fare una piccola passeggiata per favore no o porti stefani con te o resti a casa ma un appuntamento ciao ciao per favore mamma regina del dramma ok stai tranquilla non lo farò dov'è ellen questo è per te dei fiori questo è il mio bouquet no è mio ok ci sediamo certo sei fantastica oggi cosa sta succedendo penso che sia arrivato il momento sembra che nonostante la presenza indesiderata di una sorella minore l'appuntamento di ellen ed iten stia andando bene oh ho dimenticato chi l'ha ordinato smettila di fare casino vai a sederti nell'angolo penso che vada a quel tavolo non dovresti stare sulla mia strada è ora di scoprire chi è la vincitrice del nostro concorso di maghe delle unghie ecco le concorrenti la bellissima giulia e la nostra incantevole rose mamma sei la migliore vai mamma bella vincitrice del nostro concorso è rose tarner congratulazioni ma come mamma prego prendi premi offerti dal nostro sponsor il salone di bellezza lucky nails le nostre congratulazioni avrei dovuto vincere io mamma non ti arrabbiare un altro premio per la mia mensola dei successi questo è troppo ragazzi aspettate fuori grazie a tutti per questa serata meravigliosa non è ancora finita tesoro sono un uragano calmati ignora lei basta comunque è bello che il mio lavoro sia stato considerato di nuovo il migliore rose possiamo fare una foto con te cos'è quello santi glitter ti adoriamo e io adoro le macchine rose sei il mio mito quando sarò grande comprerò un'auto come questa oh i miei follower lo ranno rose non è la tua macchina quella oh no ellen dov'è stefani hai perso tua sorella no eccola vedi la tua ragazza ha quasi fatto schiantare la mia macchina e ha rovinato il mio premio mia figlia avrebbe potuto farsi male a causa della tua negligenza insegna tua figlia a comportarsi bene cosa nessuno asa offendere mia figlia sorridi ellen au il compleanno di stefani è un evento molto speciale ed eccola nascondiamoci oh finalmente c'è una festa sorpresa buon compleanno raggio di sole la chiamerei in un altro modo questo è il tuo regalo cara uno smartphone nuovo di zecca è proprio quello che volevo grazie mamma e ora il mio desiderio oh tu ti sta bene va tutto bene domani sarà la mia giornata ellen non ha senso dell'umorismo grazie ancora mamma il regalo è fantastico finalmente il mio compleanno dov'è la mia sorpresa non c'è nessuna torta qui o è arrivata la mamma tanti auguri a me come ho fatto a dimenticarmene che strana reazione ecco la tua torta ma sono gli avanzi della torta di stefani dammi un minuto adesso andrà meglio bellissima ok serve un regalo qualcosa ecco questo per te ellen evviva un nuovo smartphone sapevo che non lo avreste dimenticato ma dov'è la scatola è vuota ah stefani dov'è il tuo vecchio smartphone dalla tua sorella mi stai prendendo in giro selfie ricordo con la mamma andrò a fotografare quei gatti che litigano sono così orgogliosa di lei ma mamma perché mi merito un regalo normale silenzio povera ellen la figlia preferita della mamma stefani ha sempre la meglio itane dio non siamo la coppia perfetta questo minione è ovunque ha rovinato il nostro appuntamento tra l'altro ehi perché non hai appeso una foto con me mi dispiace ma non c'era abbastanza spazio ok va bene va bene che bello ti amo itan e tu puoi tenere le tue foto per te grazie ma ho un'idea migliore beh la mia vita non è poi così triste penso di aver trovato il mio vero amore che cosa cosa ci fanno le nostre foto qui ok stefani sei finita adesso sarà perfetto oh sta arrivando ellen cos'è questo perché le nostre foto sono in bagno questa volta si è andata troppo oltre mamma mamma silenzio che cosa c'è stefani ha stampato le foto di me e itan sulla carta igienica e l'ha messa in bagno oh dai ellen l'ha solo migliorata oh le mie bambine non te la caverai così facilmente oh e invece sì sì può essere molto difficile essere la figlia non amata della famiglia ma ci sono abituata dov'è il mio vestito rosso preferito sono bella vero stefani è il mio vestito ridammelo no 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 ah sì mamma non restituirò il vestito no mamma silenzio che c'è questa volta stefani mi ha rubato il vestito vieni qui stefani non ha niente da indossare ma mamma non dire un'altra parola ricorda devi condividere tutto con tua sorella stefani sono qui mamma tesoro mio ti ho comprato qualcosa un vestito nuovo non ne ho ancora uno simile la mia pazienza è finita è ora di vendicarsi dovrei chiedere alla mamma dei nuovi giocattoli è giunto il momento sorella una sorpresa per te sì mi piacciono le sorprese sì l'adorerai sembra che il vestito preferito sia stato l'ultima goccia ellen ha deciso di dare una lezione alla sua sorellina e ha pianificato qualcosa di grandioso grande performance fantastico è una nuova casa di barbie eh quasi ci siamo resta lì ma ellen chi è oh ragazzina ti sei persa no no sei nel posto giusto ti troveremo una famiglia beh non è stata la decisione migliore sarà possibile ora riportare stefani dalla sua famiglia e come scrivi tuoi commenti sotto il video